Oggi è domenica 8 novembre, sono le ore 9 e 31. Chiedo per un amico. Come funziona la ZTL a Frascati? In base al sito accessibilità centri storici, la ZTL di Frascati è attiva tutto l'anno dalle ore 20 del giorno prefestivo fino alle 24 del giorno festivo. Il divieto di accesso alla ZTL di Frascati riguarda tutte le tipologie di veicoli, pertanto i motoveicoli e i ciclomotori non possono accedere se non espressamente autorizzati. Ecco, allora ora che facciamo? Entro? E se poi mi fanno la multa?